da cuoca con un ristorante in campagna è stata l'osservazione del prato più che dell'orto a farmi apprezzare fino in fondo la via di la biodiversità anche pochi centimetri di prato offrono una varietà infinita di verdi che corrispondono a varietà poi di erbe che possono esistere e coesistere soltanto se il prato è sano ed è incolto sono proprio questi questi centimetri di prato che alla fine mi hanno fatto intuire qualcosa che poi con il tempo ho approfondito con una lettura un libro che si chiama l'elogio delle erbacce che racconta la storia dell'agricoltura e al contempo la storia di come le piante si sono evolute in reazione all'uomo è una lettura incredibile che mi ha anche spinto a una raccolta quindi è un foraging più sostenibile